Ciao a tutti, oggi prepareremo i plum cake allo yogurt con uvetta. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Ingredienti sono farina di tipo 00, zucchero semolato, olio di semi di girasole, uova, vanillina, yogurt alla vaniglia, lievito per dolci vanigliato, uva sultanina mollata, sale e scorza di limone. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e la scorza di limone. Ed azioniamo il bimbi per 15 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere le uova ed azioniamo il bimbi per 3 minuti a velocità 5. Aggiungere l'olio. Lo yogurt. La farina. La panina. La vanillina. Il lievito. E il pizzico di sale. E reazioniamo il bimbi. per 2 minuti a velocità 5 aggiungere l'ovetta che abbiamo precedentemente ammollato ed amalgamare per 30 secondi a velocità 2 il composto è pronto trasferire in stampi monoporzione da plum cake cuocere in forno preriscaldato statico a 170 gradi per 20-25 minuti circa fare sempre la prova a stecchino i plum cake sono cotti lasciamoli raffreddare del tutto prima di rimuoverli dallo stampo plum cake allo yogurt con uvetta grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti